Sono Mauro Vanetti del collettivo Senza Slot di Pavia, siamo un piccolo gruppo di amici e di attivisti che si sono impegnati per cercare di contrastare la proliferazione dell'azzardo in questo paese. Abbiamo iniziato da un sito web che raccoglie le segnalazioni di quei bar che non hanno le macchinette che in qualche modo resistono a questa proliferazione e poi da lì abbiamo fatto un discorso più politico, abbiamo anche scritto un libro che si chiama Vivere Senza Slot e diciamo stiamo cercando di sensibilizzare e di fare una proposta politica per cambiare la situazione che c'è in Italia rispetto al gioco d'azzardo, in particolare le macchinette nei bar. Io sono sempre stato appassionato di giochi, in particolare mi piacciono i giochi da tavolo, ho anche provato qualche volta a produrne qualcuno di mia invenzione e tutti noi del collettivo siamo abbastanza interessati alla dimensione ludica e è proprio anche da questa passione che nasce il fastidio verso il gioco d'azzardo che in qualche modo rappresenta il cugino antipatico del gioco sano, del gioco divertente, del gioco socializzante ed è un cugino ingombrante che toglie spazio secondo noi al gioco nelle nostre società, nelle nostre città e nei nostri spazi e quindi noi vediamo una vera e propria battaglia in corso per il gioco d'azzardo, in questa battaglia ci schieriamo sicuramente dalla parte del gioco non d'azzardo. Questo festival è interessante perché è un festival di giochi ed è un festival che porta i giochi nelle strade e nelle piazze, in qualche modo allude l'idea di riconquistare degli spazi, di riconquistarli giocando, riconquistarli nell'ossio, riconquistarsi nel tempo non di lavoro, nel tempo improduttivo. Il gioco d'azzardo fa il gioco contrario, se mi si permette la battuta, perché cerca di conquistare il nostro tempo libero, il nostro spazio di libertà e di trasformarlo in una cosa che assomiglia a un lavoro. Esce dalla fabbrica e devi ancora tornare alla catena di montaggio, questa volta non più al tornio ma a tirare la levetta oppure come capita in Italia con le slot machine dei bar e delle sale slot, premendo un bottone ossessivamente. Cerca di farti diventare produttivo anche nel tuo tempo libero, ovviamente come al solito produttivo per loro perché il banco vince sempre e tu ci perdi. Allora noi invece riconquistiamo le piazze, riconquistiamo le strade, riconquistiamo questi spazi che ci vengono tolti dal business dell'azzardo anche attraverso il gioco socializzante, il gioco vero, il gioco storico o i giochi nuovi. Noi siamo aperti a tutto, ai videogiochi, ai giochi da tavolo, ai giochi per strada, agli sport, tutto quello che rimette in campo la dimensione umana che non è produttiva, che sfugge al profitto, che sfugge al capitale. Questo secondo noi è il senso di portare una tematica no slot e antiazzardo all'interno del toccativo. Non lo so, io sono di Pavia e però il pavese toccativo vuol dire toccate, penso che sia la stessa cosa anche qui, giusto? Grazie per la visione!